Episodio di razzismo in una scuola media di Padova. Alcuni ragazzini hanno preso di mira una studentessa 11 anni di colore, offendendola pesantemente e chiamandola scimmia e negra. Il fatto è accaduto al momento dell'uscita da scuola, protagonisti alcuni alunni di un'altra classe ma della sua stessa età. A denunciare l'episodio è stata la mamma di una aluna che frequenta lo stesso istituto e che ha affidato i social il suo sfogo. Ignara di tutto la dirigente scolastica che si è già attivata per far luce sul grave episodio. Se dovesse essere necessario prenderò dei provvedimenti, ha dichiarato. Non sarebbe la prima volta che nella scuola avvengono casi di bullismo. L'anno scorso all'interno di una classe di seconda media ci furono degli episodi di cyberbullismo.